Da un'idea della signora Elda Vianello, l'Istituto di Medicina Estetica IME nasce nel 1984 sotto la direzione del professor Carlo Alberto Bartoletti, fautore della medicina estetica mondiale, svolgendo in oltre 30 anni molteplici attività di medicina estetica ed estetica applicata. Per garantire i trattamenti e le metodologie scientifiche più aggiornate, l'Istituto si avvale della collaborazione di specialisti nei vari settori della medicina e di personale medico selezionato tra i diplomati della Scuola Internazionale di Medicina Estetica di Roma, il cui direttore è il dottor Bartoletti. I sistemi innovativi nel campo dei trattamenti professionali ed estetici e la collaborazione con la Fondazione Fatebene Fratelli permette all'Istituto IME Benessere di Medicina Estetica di essere all'avanguardia in qualsiasi trattamento e contemporaneamente accessibili a costi ospedalieri. L'Istituto esegue visite mediche preliminari complete, finalizzate a stabilire i trattamenti per il benessere e la cura della persona consigliati da specialisti in medicina estetica. IME, un unico centro per la tua bellezza e del tuo benessere per star bene nel proprio corpo.